Musica Arriva l'ici anche per la Chiesa. Il Premier Monti presenterà un emendamento per far pagare i beni immobili ecclesiastici in cui si svolgono attività commerciali, in particolar modo cliniche, pensioni e scuole. La CEI afferma che ogni intervento volto a introdurre chiarimenti alle formule vigenti sarà accolto con la massima attenzione. L'emendamento sull'ici dei beni immobili della Chiesa potrebbe portare un introito di circa 500-600 milioni di euro, mentre lo studio dell'IFEL parla di un miliardo di euro in più. La Corte dei Conti lancia l'allarme. L'Italia è un paese di corrotti. Il Presidente Luigi Giampaolino, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2012, afferma che l'illegalità, la corruzione e il malaffare sono fenomeni notevolmente presenti nel paese. Siamo ai massimi livelli in Europa per evasione dell'IVA, che arriva fino al 36%. La Corte dei Conti creerà delle regole di comportamento da far rispettare alle amministrazioni pubbliche, dove incariche e consulenze date dalle amministrazioni a soggetti estranei sembrano invece seguire obiettivi personalistici al di fuori dell'interesse pubblico. Grazie.